Vittorio Tavolino Visto che siete nei punti più alti della classifica, questi tre punti quanto possono essere importanti anche per raggiungere la vetta? Siamo adesso all'inizio del ritorno e spero che prima o poi potremo continuare con questi tre punti ogni volta. Io ti ringrazio, grazie per la disponibilità e speriamo di rivederci presto. Grazie. 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 Grazie.